Ciao a tutti, sono Femmo Marulli e siamo al quarto video di oggi, faremo un vlog del film Zona d'Ombra. Ecco, questo film parla di un giocatore che è morto, il patologo Ben Omano certificò la correazione fra un ammattese e i tromi subiti durante le partite. Dice questo qua, sto patologo, io, raga, vi posso vedere questo film. E vorrei salutare in questo video, raga, D3P07, poi Dino d'Alessandro, Chiara Verna, Matteo Verna e infine Frensco Bendivenno. E quindi, raga, ci vediamo al prossimo video.